E tu non puoi in nessun modo avere misericordia quando tu bestemmi e chiami lo Spirito di Dio. La parola di Dio che è stata confermata tramite lo Spirito. Vedi, se la parola dice così e lo Spirito la conferma e tu chiami ciò una cosa impura, allora tu hai superato la linea tra la misericordia e il giudizio e per questo non potrai mai più essere perdonato. Ecco la ragione per la quale io accuso questa generazione di essere colpevole di crocifiggere e bestemmiare il figlio di Dio manifestato. Come era stato promesso tramite tutti i profeti e da Cristo stesso che negli ultimi giorni doveva essere come fu ai giorni di Noè, nei giorni di Sodoma. essi bestemmiano e crocifigano al popolo nuovamente il figlio di Dio ed egli è la parola confermata. Una parola contro ciò non potrà mai essere perdonata. A presto!! Ero! Al prossimo episodio Grazie a tutti.